Ciao bambino, gioca un po' il bambino! Guarda la giraffa come è alta! Guardali amore! Non sono questi? No Ecco un'altra! Un cammello, si! Guarda le zebbre, guarda che le zebbre! Guarda che le zebbre si vengono a salutarci! Ciao zebrine! Ciao zebrine! Ciao zebrine! Fallo dritto quello delle camere! Ciao! Ti mangia la bocca! Non bisogna sporgersi dai finestrini! È vietato! Adesso dobbiamo entrare dentro e andiamo a piedi! Papà andiamo a piedi adesso qua! Dove si può parcheggiare? Adesso cerchiamo un posto! Vediamo anche le nutrie! Aia! Aia! Sì! Qui! Ah! Ecco un parcheggio! No no! Come se stavi qua? Ma è bravo! Andiamo a vedere altri! Andiamo a vedere altri animaletti! Bigogna! Bigogna! Bigogna? Non è un alce! Guarda! 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 Andiamo Ivan! Guarda! No! Ci sono altri! Guarda! Ivan! Saluta Ivan! Ciao! 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 Guarda l'amantide come è gigante! Guarda! 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 Questa è un'amantide religiosa! Guarda com'è grossa! Hai visto amore? Questa è una radasca sembra! Non puoi entrare dentro! E può toccare? È gigante Ivan! Non puoi toccare! Salutala! Piano! Piano! Piano eh! Corpione gigante! Guarda! Non si può toccare! Non si può toccare! Cosa è che? Mettiti qui! Guarda! Chi riesce forse! Eccolo! Cosa è? Guarda un serpente! Guarda quello verde! Lo vedi? Sì! 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 Dentro nel buco è un serpente! E dentro lì! Si vede un po' la cosa! Lo vedi là? Cos'è? Eccolo il serpente! Eccolo lì! Cos'è? Eccolo lì! Cos'è? Lo vedi? Lo vedi? Sì! Guarda qua! Questo è un pittone! E' un pittone! Un serpente! Un serpente grossissimo! Sì! Vedi quanto è grosso? Sì! Ecco! Lì è l'acqua! Cos'è? E' l'acqua! Cos'è? Un serpente! Eccolo! 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 Lì sopra! Guarda lì! Eccolo! 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 Guarda come si era ampita! Qui c'è una cobra! Guarda com'è bella bianca! Guarda! Eccolo! Eccolo! Amore! Cos'è? Lì sopra! Cos'è? Eccolo! 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 Eh! Cosa è questo? Guarda! Guarda! Dormi! Dorme! Dormi! Dormi! Ecco una tartaruga! Quante? Due! Cosa è? E qui cos'è quello? Eh! Guarda! Questa è quella... Questa è la tartaruga! Vedi come è sbriato! Hai visto amore? Andiamo a cercare il dinosauro! hai visto questo l'ha mangiato un altro dinosauro quello cattivo l'ha mangiato si è guarda questo percorso con tutti i dinosauri guarda con Epo Robova ha la faccia di furbetto guarda tutto allosauro guarda come mi mangio con la manina guarda il carino guarda l'amore con la manina le impronte di chi? qualche sacchiotto forse qualche animaletto che fa saluto qua cosa dice? ma guarda l'indiano indiano d'america guarda l'indiano d'america guarda che belle guarda le ciccone amore guarda che c'è mangi? guarda 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 sta vicino ciccone? oggi? è visto che fai? oh, c'è lì, ci sta parlando qual è la rivista? Stanno arrivando i falchi adesso Eccoci qui Ciao a tutti Benvenuti nella portetta del palco di Alza Paribas Allora prima di iniziare la nostra dimostrazione vorremmo tornare indietro nel tempo per qualche seguito Chi erano e i falconieri? Un uccello Cosa? Un uccello bello Come si chiama il uccello? Un uccello bello Un uccello bello Un uccello bello dovete vivere l'Aquila facciamoli un applauso facciamocire un applauso ok, non seriam bravizio, facciamoci un applauso a mostrarsene che ho scoprito la postura e la postura la postura e la postura è un applauso a mostrarsene a questo punto la nostra dimostrazione è così beviata all'applauso non va a noi prima del applauso va ai pregatori bellagra bellagra Grazie a tutti.